In casa 5 Stelle tiene ancora a banco il caso di Patrizia Bedori, la candidata grillina al comune di Milano che avrebbe sollevato dubbi tra i vertici del movimento. Non mi è mai stato chiesto di fare un passo indietro, precisa la Bedori e anche Di Battista smentisce. I candidati del Movimento 5 Stelle vengono scelti dai cittadini, questo è il progetto del 5 Stelle, cioè il cittadino che si fa stato. Dove decidono i cittadini noi pensiamo che appunto si possono ridurre le storture della politica, quindi non esiste nessun caso.